A Fonte Nuova si aggira un uomo che ferisce i gatti usando una balestra con frecce registrate. Un gattino è stato trafitto con una freccia proprio l'altro giorno. A soccorrerlo alcuni residenti che l'hanno portato alla clinica veterinaria dove è stato subito operato, gli abitanti hanno presentato denunce ai carabinieri della stazione di Mentana che hanno avviato indagini. Un'altra residente avrebbe visto un secondo micio ferito da una freccia che però non è riuscita a prendere. Il sospetto che ad agire sia un maniaco seriale che ha preso di mira la colonia felina di Fonte Nuova e che sia anche pericoloso perché è in possesso di un'arma micidiale anche per le persone. Patrizia Prestipino, garante per il benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale, ringrazia l'EMPA per aver presentato denuncia contro i gnoti e i residenti del comune per aver allertato via social i proprietari di cani e gatti della zona. Un reato spiega in una nota che non può trovare giustificazione nei confronti di essere indifesi che spesso ripongono nell'uomo la loro fiducia senza sospettarne i lati più crudeli. Per non rimanere indifferenti di fronte a una tale barbarie, Prestipino chiede al sindaco di Fonte Nuova di costituirsi parte civile e fa un appello al coinvolgimento dei cittadini affinché collaborino con le forze dell'ordine nella ricerca e nella denuncia dei responsabili di questa orribile vicenda.